E ora con Rai Pubblica Utilità andiamo a vedere la situazione sulle strade. Diamo il buongiorno ad Alessandra Canale. Grazie, buongiorno della linea Jacopo, grazie della linea. Traffico vivace lungo le direttrici che conducono verso i principali centri urbani della nostra regione per i consueti spostamenti pendolari del mattino con l'inizio delle attività lavorative e scolastiche. In particolare in direzione Firenze dove già si registrano i rallentamenti in centro città. Come di consueto monitoriamo in real time le immagini che ci giungono in diretta dalla 11 all'altezza di Osman Noro, Sesto Fiorentino. Come vedete ci sono anche dei rallentamenti che partono da Prato, Ovest, in direzione del Bivio della 1, Roma e Milano. L'altro tratto che monitoriamo è la 1 all'altezza di Firenze Scandici. Come vedete anche qui i flussi veicolari vivaci in entrambe le carreggiate. Ma inizio nelle comunicarvi che ci sono grosse criticità a seguito di un incidente sulla 12 la Genova-Rosignano ed è stata disposta la chiusura dell'uscita di Colle Salvetti dove peraltro si è verificato questo grave incidente con coinvolgimento di un camion. Prudenza sulla 1 in questo momento per dispersione di carico, esattamente dei pezzi di metallo tra Valdichiana e Arezzo. Queste le notizie di maggior rilievo. A voi tutti una buona giornata. Linea allo studio.